mister arriva a una qualificazione meritata soprattutto nell'arco delle due partite questa è la prima soddisfazione di questo primo turno eh sì siamo in finale del girone quindi dobbiamo essere contenti soddisfatti e dobbiamo continuare a lavorare e provare arrivare all'altra finale ti chiedo se questa partita era più difficile da preparare dal punto di vista fisico o psicologico no fisicamente i ragazzi stanno benissimo era ovviamente più difficile dal punto di vista psicologico perché quando devi giocare una partita passami il termine con un agonismo controllato perché è quello fondamentalmente perché noi non non eravamo insicuri del passaggio no voglio dire con tutto il mio grande rispetto per la Lazio a cui faccio i complimenti perché ha fatto un campionato meraviglioso e quindi figurati però insomma il 6 a 0 dell'andata ti metteva un pochino al riparo e quindi il pensiero era arrivare non fare stupidaggini no da un punto di perché i nostri avversari giustamente hanno cercato di fare quello che ritenevano più giusto e tu dovevi lavorare con un questo agonismo controllato con una grande attenzione e pazienza e purtroppo lo sport è agonismo puro l'agonismo controllato non esiste quindi è stata molto difficile dal punto di vista emotivo si va al secondo turno arriva il Melilli squadra scorbutica squadra d'esperienza squadra con grande blasone guarda in questi giorni mi è tornata in mente l'intervista che abbiamo fatto dopo dopo la vittoria no che è stata una vittoria netta è andata per noi qui in casa mi ricordo 4 a 0 poi in gestione 6 1 e dissi in quell'occasione che il Melilli era una grande squadra che sarebbe arrivata ecco è arrivata il Melilli è una squadra importante è una squadra che negli ultimi tre anni ha vinto ha vinto la 2 e che quindi è la squadra che ritengo più giusto incontrare in questa in questa situazione dovremmo essere molto bravi ma io ritengo che anche loro pensino la stessa cosa di noi quindi sarà sicuramente una bella sfida partita iniziata con grande nervosismo forse è stata l'attenzione maggiore che avete dovuto porre per portare a casa questa qualificazione sì è una partita molto difficile ma ce l'aspettavamo incontravamo una squadra molto molto fisica che è venuto qui a giocarsi il tutto per tutto quindi onore a loro perché ci hanno messo veramente in difficoltà arriva il secondo turno contro il Melilli una squadra che ha un grande blasone una grande storia campo caldissimo quello siciliano che doppio confronto sarà beh è una una tra le squadre più forti sicuramente era una delle candidate alla vittoria l'abbiamo già affrontati due volte e in casa abbiamo vinto lì da loro abbiamo perso e sarà una sfida veramente dura ti chiedo nello spogliatoio con il passare dei giorni delle settimane se quel sogno comincia un po' a concretizzarsi se ci state facendo la bocca e soprattutto quali sono le motivazioni che ci sono nello spogliatoio guarda noi è dall'inizio che ci volevamo provare tra di noi naturalmente poi siamo stati così bravi da meritarci questa possibilità e adesso andiamo a giocarcela grazie grazie grazie